ciao questo è il solito video che faccio il mercoledì su topolino che stamattina sono riuscito a prendere il nuovo numero il 3596 che è questo qua che sono riuscito a finirlo di leggere che gli volevo dedicare il solito video che in questo volume ci sono le solite sei storie tranne la solita ultima che prende solamente una facciata quella pagina 162 che è la solita che si chiama bruzzuri si nasce dinamite si diventa colonne sonore che la storia di carlo panaro i disegni e lecchini di valerio eld e la parte del colore di valentina amari che la solita come stavo dicendo la pagina 162 che prende solamente una solita che prende una facciata e basta che dopo le altre cinque che la prima che si vedeva pick up metallo pesante che la storia di titolo faraci disegni di lorenzo pastrofi pastro vicchio e lecchine di michela frare e la parte dei colori di rene fornari che in questa prima amari tram ho visto che la parte dei disegni come ha fatto anche la parte dei colori con papà per i nick mi ha piaciuto che con questo marei stile marei con questo tipo di tavole marei fatte marei diversamente marei dal dal solito a me come ho detto marei le altre volte mi sono sempre piaciute queste marei tavole diverse marei composti diversamente anche tipo questa quattro e qua a tre quarti o suddivise marei diversamente dal solito mi sono sempre piaciuto e dopo questa prima sia nel disegno nella parte marei in cui con questi colori marei così è un po più marei accesi dal solito me da parte mia mi sono sempre marei piaciuti che questa prima trama marei non c'era marei nessuna marei da parte mia nessuna marei critica mareda da fare dopo nella 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 seconda ea lord e quel che presenta papirino e il manuale di trova mostri che è la storia di giulio gualtieri i disegni e lecchini di roberto vian a parte del colore di galetano gabriele d'aprile che anche in questa seconda marei trama marei si amare la parte colore con questo tipo di disegni non c'era marei niente da dire che magari è un attimino migliori marei incerti come si dice con foto marei a certe tra storie che ho trovato marei qua su sempre su questi volumi di topolino che che in questi disegni che ha che ha fatto marei in questo in questa storia roberto vian sono fatti anche bene con questo moraito col suo modo di disegnare che sempre proprio fatto morai per disegnare questi tipo marei di di cose per come si dice con questo modo marei di disegnare suo che sembra marei fatto apposta per proprio per topolino per queste trame morai per più che altro adatti più che altro marei più che altro mai mai bambini prove mi ha piaciuto mi piace marei di suo stile marei come come disegna che dopo quando c'è dentro le trame c'è qui poco a morai come trame ho visto che ci possono magari fino adesso mi erano marei anche sempre piaciute anche come il livello di trame che ho trovato in questi volumi di topolino dopo quella dopo la terza che si trovava ea pippo in domande e risposte che la storia sempre di titolo faraci i disegni di giulia la torre la parte delle chine di matteo dei vincenzi che a parte dei colori di valentina mauri che in questa trama vorrei si amare nel parte dei disegni del colore marei non c'è a mai come si dice sembrava le sole sempre il solito e magari tra me che si vedono mai su questi volumi di topolino che non mi ha mai colpito quel più di tanto questa terza marei trama poi andando andando avanti come quarta storia ea topolino comics e scienze picco dei papi 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 e il segreto del papio che la storia di marco bosco i disegni di giampaolo soldati e le chine di simone paoloni a parte del le chine erano di simone paoloni il colore di putra abdul jalil che questa qua pagina 81 che che come ea come magari la la terza che non c'è amare nel quel più di tanto ma lei da dna parte ma lei dei disegni che quella prima dura anche poco neanche 10 pagine però in questa qua a parte che c'è a zio paperone dentro però che quando c'è il quel più di tanto magari che mi aveva così magari colpito come trama e anche mare nei disegni poi andando avanti che c'era l'ultima quella pagina 124 l'unica cosa bella che quella con topolino comics e scienze doveva magari confronto agli altri un attimino di più che ha un attimino un po più lunghi la poi andando come stavo dicendo la quinta e ultima magari da farvi vedere a pagina 124 e top john i vichinghi per bene la biennale barbarica che la storia di roberto gagnor i disegni e le chine di andrea malgeri la parte di del colore di mattina andronova che in questa trama magari qua anche se amare in breve anche questa qua ci poteva mare anche e amare veloce nella lettura e non ci amare anche mare da leggere da dire che i disegni sono come i soliti che si trovano magari in questi volumi su topolino che che mare con questi volumi di topolino un po rimane di pretendere quel più di tanto però come trama ci poteva mare anche sale dopo ho visto che c'era come al solito la parte dei lettori dove pubblica sempre le foto di chi manda proprio proprio la che manda in redazione la proprio foto che lo dopo la pubblica no su sui sui volumi che c'è l'angolo dei lettori che come al solito hanno già messo magari la cover quello di settimana prossima che dovrebbe anche avere anche il volume qua copertina colava e sua variante però la cover normale del prossimo numero del 3597 dovrebbe essere questa qua che dovrebbe avere ma magari anche la sua variante quella scusa del lucca comics che la variante dovrebbe anche avere una sovracoperta speciali illustrata da florian sattinger e niente che che c'è a questa variante quella scusa ma rai con lucca comics e niente che come al solito morrei la cover magari di questo volume l'ha fatta andrea frecceo che c'è il solito sketch all'interno della cover del volume il solito sketch in prima pagina di silvia ziche che tra silvia e giorgio cavarzano sono quelli i due che sono le due persone che magari più importanti per topolino e niente che quello che potevo dire su questo numero del 3596 di questa settimana quello che potevo dire l'ho già detta massimo con i video di topolino sicuramente ci vediamo ci vediamo mercoledì prossimo e vedrò se riesco a recuperare anche la variante che esce qua scusa di del lucca comics e niente quello che potevo dire su questo volume l'ho già detta massimo ci vediamo sicuramente con topolino mercoledì prossimo ma sicuramente nei prossimi giorni i miei soliti video che i soliti che porto sul mio morai sul mio canale e niente per adesso morai vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao